oggi andremo a disegnare una macchina, sono gasatissimo, Pimp Man Ride G Nello, Pimp Man Ride G hai una mano viola? si perché ieri sono andato a ripingere tutto mi sono portato una borsa di mazzone si vede bene, rimane al filo delle pizze si, io poi faccio un video molto gag, faccio un po' così, one take quello che viene lì eh io non riesco, devo rompere io faccio il tetto io mi sto patendo la foto guardare no, guarda il vetro si tiene sul vetro questa roba guarda il paravortismo oh oh utile come un pizze a buco, guarda qua non va bene per dargli una scocciata che stia giù come io dai, pizze a buco guarda la foto guarda la foto guarda la foto guarda la foto no sta colgando la macchina ha 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 vuole che colorato fa le scritte contro me qua l'ha visto a lui e no no l'ho visto si ma è lì ma è si è decido oddio ho pagato prima ho pagato ho pagato un pelle se trovo ho rimasto qui poi mi ha detto di fare due amiche fare pure che mi ha detto di fare due amiche guarda 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 agli non 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 sembra mimetica non c'è un cavolo, non c'è un cavolo devo una bella non c'è nulla da provare pasticcia una mini opera d'arte non c'è nulla da provare che buone 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 adesso mi brucio ma non è vero dai No, allora ci vediamo alle 19.00 Se ci fermiamo troppo tardi poi lo so già che andiamo a mangiare fuori Cioè non c'è un uomo Non mi fai già spendo un milagro Ma è facile no No perché anche io vorrei evitarvi So che poi settimana prossima andiamo in quel posto E lì non è che posso venire a casa a mangiare Ti costa mandargli un messaggio Se sono in qualche posto in cui riesco a prenderti e andare Sì se ovviamente sono sotto ora a dire Ti costa mandargli un messaggio Ti costa No no veramente sembra anche dritto Sì Beh io puntavo a questo che con te scrive che No io sto Le debole Non voglio fare tutta Le debole Cioè ripeto Poi intanto Ripeto io non muoio Poco da me Viego di no Non quella No immaginavo La fungola No No il confrugere È stato arrottomato Che buono Eh non sto Vieta secondo me è così in a bronzo Grazie No è che ci vuole No è che ci vuole No è che ci vuole E magari come te che aspetta che sei il tuo assiso lì No lo so Lo so Lo so E oggi era All'ultima Le due Le due Le due Le due No, no, io ero chiesto così, dentro c'è niente, non ci sono due, e dentro c'è niente, non metti qui dietro, ci sono due da giovani, non lo faccio, non lo faccio, ma non lo faccio, non lo faccio, no, non lo faccio, che riesce ad un'automazione, non si usa, non mi ricordano di自 in automatico? è un lavoro, un po' di... ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, sono molto... Vabbè, non ci sono le tag in giro così... Devo farlo davvero... Io toglio... Il pezzo che si viene a fare... Si esatto... I signori non fanno la fantasia... No, basta... Poi se la usi come dedica la macchina più fina... No, è vero... Ah, adesso si che è perfetto... Ci manchava... Una fidanzata sulla mia macchina... Anche il mio non ha messo la macchina... Ma anche il tuo non ha messo la mia macchina... Ma il mio non ha verniciato niente... Niente ancora... E' uscita da sola... 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 Massa... ... ... Sicmemberいただco... E' uscita da sola... Bischina... Infatti... ... e' uscita da sola... ... si hai messo lo scotch che tiene troppo negli delicato terribile terribile a me non manca un cono ma dietro e pinza e pinza non è uno dei due nastri basta che lascia la coda questo per esempio ho abbandonato il progetto no ne dà fretta di toglierlo perché ero gasato ero gasato per toglierlo per la macchina che mi piaceva e mi sono comprati no voglio senti a momenti di cosa di roba con lo spiace di l'ultimo lo spazio colla a fuoco stasera mi sa che altro che passerò a pulire cosa sarà meglio se arrivi domani con la colla non ti fa nevole poi ho sentito la macchina che ralentava ho detto quello è un cerchio quello è un cerchio e dimmi infatti il cerchio guarda la colla qua è perfetto abbiamo fatto in modo che si potesse togliere questo è un cerchio è un cerchio non è un cerchio perché l'ultimo non ci va e vatti adesso l'ultimo ok mi riparo a mettere la patica se no non ci ha fatto non mi rinfora non li rinfora non mi rinfora mi rinfora non mi rinfora no invece nel freno ti aspetta non ho preso è una fatica lo sbaglio La cosa che c'è dietro, il percorso che hai fatto per arrivare lì Grazie a tutti